e vi dico cessi Cessi, cessi, volevo dire cessi, 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 ogni contessa, cessi, io sono un medico, dai piedi alla testa, tasto le teste, di cipolle, carciofi, cavoli, melanzane, tasto le teste, toste, tosto, le tasto, le teste, le piste, le toste, le tuste, tasto tutto, teste, teste, teste. Mi insegno tutto un numero, tutto un numero, tutto un numero, una, due, tre, quattro, una, due, tre, quattro. I canali sono mia, i canali sono mia, i canali sono mia, i canali sono mia, i canali sono mia. E non tutto è vero che io non c'è mai, che se tu guardi, non lo vedete qua, non lo vedete qua, non lo vedete qua. Cari elettori, finalmente vi do il piacere di vedere il mio splendido riso, eccomi, eccomi. Pronto, qui è? Un signore Ramonnetto, e dove non mi dallevo? Do purgatore, ecco ci sei telefonato. Sì, ci ho messo 10 ore a posto della fontanella sua, a venire seccata da una mani, pronto, pronto. Dice che si ha bruciato il telefonino, ma. Ma che due che andava alla farmacia ci disse, ma dottore, non lo vedete se ho proprio lato che ho piegato, ma voi ha ragione. Parade, 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 Parade. Arista si che si lo che è parato. Parade, 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 Parade. Parade, 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 Parade. Oh, yes! Oh, yes! Oh, yeah! Marco, a stai tempi tutti i boccheri si hanno la pressione alta, e i dottorietti ci ha la misurano casa per casa, e ci hanno i rezzetti per farla calare. tu che ne dici? Paolo! L'hai avuto magari io e la risetta magari sono magari a mia scusami onde sono i listi? la vede? ma onde? la vede quei due cerchi? chiedi? sì! BAM! Scusi! Lei, buon uomo ha la prostata perchè il movimento cittadino le vuole donare un cesso ma che minchia vangocchiano ancora mia mi funziona buona invece ma perché mi ha buon cesso la vera che c'è la menta c'è la menta che funziona sporcaccioni che fate lì tutti nudi? signor presidente esso muo i causi e i mutande mi ha preso non da la fungia boss ma prendiamo un terzo posto e ancora ci vogliate buoni per i prossimi cinque anni sono ragazzi vostri ragazzi vostri buona ma prendiamo un po' calcio ma prendiamo un po' Grazie a tutti. Grazie a tutti.